Music Free! Dai voce alla tua musica! Ciao! Ciao, grandissimo Robby, saluto tutti gli amici di Feel the Night, grazie di avermi invitato! Sei partito subito in quinta, è grandissimo, potevi anche evitarlo! Andiamo avanti con le domande? Sì, sì! Come vuoi tu! Ok! Nome! 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 Emanuele! Nome d'arte! E-V-N! Anni! 25! Dove vivi? Dove vivi? Ehm, allora, cittadinanza milanese, però attualmente vivo a Londra, a London! Genere musicale? Allora, attualmente mi sto specializzando nella trance, diciamo, perché ho notato che mi assomiglia abbastanza, mi rispetta, però non nego il fatto di aver prodotto comunque canzoni un po' più effettive, diciamo, hardstyle, qualcosa di hardcore, però adesso sto rientrando un attimino, diciamo, nel mio vero genere, che comunque è la trance o, diciamo, elettronica in generale. Nel tuo sito internet? Allora, mi potete trovare direttamente su Facebook, scrivendo sul motore di ricerca di Facebook, ADM Official Fan Club. Presenta la canzone. Allora, ragazzi, vi presento questa mia produzione, è una delle dieci produzioni che fa parte del mio nuovo album Final Challenge, uscito 8 ottobre, la canzone si intitola Nature of the Sound, però vi piaccia e vi mando tanti bacioni e ringrazio il grandissimo Robby. Saluta chi vuoi. Saluto tutti i miei amici che sono in Italia e che non vedo da tantissimo tempo, saluto la mia famiglia, saluto Didi che ho conosciuto e che mi ha fatto conoscere il grandissimo Robby, e beh, chiaramente saluto Robby, come posso non salutare il grande Robby? Che lecchino, va bene, ti ringrazio, ciao e in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri, ciao. Grazie, ciao Robby. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.